Riaperta da oggi l'area giochi del parco Mascagni Alvomero, in attesa della riqualificazione del parco il campo di basket è stato messo in sicurezza e sono stati installati nuovi giochi per bambini, tra cui un'altalena per ragazzi disabili. Questo è un inizio di un percorso perché dovremo arrivare in breve tempo alla riqualificazione complessiva dell'intera area, quindi con un finanziamento di città metropolitana già programmato. Ci aspettiamo che in tempi brevi possa partire finalmente l'intervento complessivo. Questo è un inizio, un segnale, municipalità, servizio verde della città, assessorato centrale e imprenditori privati mettono in condizione questo parco di essere fruibile con attrezzature, giochi, attività ludiche, almeno ai bambini. Fondamentale è la generosità di due imprenditori, della ditta Brognolo e della SIP, che con loro contributo hanno reso possibile la riapertura. Oggi riapriamo le giustrine, ma oggi ho firmato anche la delibera per la riqualificazione del parco Mascagni. Penso che la prossima settimana sarà approvata in giunto, dopodiché seguiranno le fasi di validazione e mi auguro che dopo l'estate possano cominciare anche i lavori. Anche sulla base della nuova delega che il sindaco mi ha conferito, ovvero sulla vivibilità, è fondamentale l'impegno e la collaborazione dei cittadini. Se noi puliamo attraverso la SIE che sta facendo un grosso lavoro, poi ci stanno alcune cittadine purtroppo che non rispettano quelle che sono le regole delle vivere insieme, diventa difficile. Quindi è necessario che si riallacci questo tipo di rapporto e insieme possiamo far rinascere la nostra comunità. Grazie.